Ciao Simone, puoi raccontare agli amici di PokerFactorTV qualcosa di ItalyWin? E niente, è una nuova piattaforma, speriamo di avere un po' di successo, adesso siamo partiti da poco, abbiamo anche qualche evento valido, Martino e Roberto lì dietro, adesso il tutto è partito una settimana fa, adesso vediamo un attimo con l'avvenire del tempo se avrà successo o no questa piattaforma, però spero di sì perché ci mettiamo impegno, siamo un bel gruppo unito e facciamo sacrifici, adesso vediamo un attimo, speriamo in bene, per adesso sta andando tutto bene. Benissimo, e invece questa Poker Champions League come sta andando? Per adesso ho giocato tre mani, però tanto la struttura permette di stare tranquilli, attendere, non c'è nessun problema, la struttura è bella, l'ho già fatta a San Marino. Com'era andata? Il 3.30 sono passato, al 5.50 siamo usciti dalla seconda mano, con una scala assurda e poi ho vinto la struttura per il 1100, ho fatto il 1100 e ho fatto la bolla a 1100, tutto sommato bene. Grazie a tutti.